Partita fondamentale per noi dopo la sconfitta di Trapani, dovremmo dare un segnale importante. È una partita dura, loro sono a zero vittorie ancora, quindi verranno affamati per portare a casa una partita. Quindi sarà una partita dura per noi e partita importantissima. Abbiamo fatto una settimana dura, come facciamo sempre, una settimana concentrata, una settimana di concentrazione per questa partita che è fondamentale per noi. Il Palasport lo aspetto sempre come al solito, un Palasport entusiasta, un Palasport rumoroso, come al solito a Siena.